Ma questo è Wenderland Sì, del signor Cappella Di bestemmiame Della vecchia strozza mangiapolli E allora siamo pronti Andiamo Chi è la vecchia mangiapolli? L'aggiornamento è stato registrato E perché? E di cosa? Pronto? Vergogna Pronto? Ho ricevuto lo stipendio di novembre E la tredicesima 693 euro Ma va dormiva Vergogna Lo amo Pronto? Vergogna Ma va a qualche paese Non me lo fa le scatole E perché? Sì? Vergogna Che cazzo vuoi? Ho ricevuto lo stipendio di novembre E la tredicesima E a me lo spiego un cazzo E perché? E smetti di tribunale Che chiamo la polizia E perché? E perché me lo dico i coglioni Anche lo sceriffo Tanto al culo No, che colpo Pronto? Come ti chiami? E che cosa sei a te? Quanti anni hai? Sono cazzi miei E allora sei ne guai Tanto, tanto, tanto Mamma mia Bacca 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 Vergogna Vaffanculo a te con la polza Sono di tua madre E perché? Vaffanculo vai Ambarabaci Cicocco Bacca Coca Coca Cosa Coca Cola Stunto Forse perché come furia A cavallo Fatte sentire Delinquente Stupide Puttana Troia Come ti chiami? E corruto Corluto Come ti chiami? Vergogna Di nuovo Pronto? E che cosa? Vai a Fangula Te con la cioccoli Di tua madre Anche lo sceriffo Di Nottingham Aia Pronto? Vergogna Io ho sparato una volta Pronto? Ho ricevuto lo stipendio Di novembre E la tredicesima Dai ragazzi Su Dai lo zos E perché? Sono il papà di Marco Dai Piantatela lì Ambarabaci Cicocco Ambarabaci Cicocco Sono il papà di Marco Ciao E allora Le donne della zona Spontano Per il santo Pardon Grande barne A questo punto Lei potrà osservare Che con i rumori Tutto va bene Ma quale effetto fa Alleluia Alleluia Ma quale effetto fa Alleluia No 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 Alleluia 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 Quanti anni hai Quanti anni hai Quanti anni hai Che colpo 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 Vergogna Ho ricevuto lo stipendio Di novembre E la tredicesima 693 euro Ho da fare E perché? Riccardo Ho da fare E perché? Perché ho da fare Sto facendo Un lavoro in casa Capito Riccardo? Come? Mi vado ora A metterci Il telefono fuori posto Riccardo Che cosa fai? Sto facendo Un lavoro in casa E che cosa? Eh Non te lo posso dire Bacca Dai Te lo prendi questa sera Bacca Te lo prendi questa sera? Vergogna Eh amore Aspetta Pronto Ti lo provo Vergogna Vergogna Non ce la fa Che colpo Che vignata mista Ambarabaci Cicocco Ma non è possibile Ma perché? Ma stava facendo un lavoro E perché? Niente Niente da fare Da 2000 Come? Cosa serve? Per quale Sì Esattamente così Vergogna Sai che ruopo Lo scopo E perché? Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Che colpo Eh sì Cosa è una strella Che allora sei nei guai E feng shui Cos'è? Ecco perché non vi è Che è una sola parola Perché non si è in un paese normale Bensì in un paese infestato Da sanguisughe E parassiti Che allora le donne della zona scopano No Non 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 Grazie.